Sezione televisione, premio migliore interpretazione femminile a Paola Cortellesi per la serie Petra 2, l'ispettrice che ha conquistato il cuore del pubblico, ma da anni Paola Cortellesi ci conquista con la sua bravura. Che personaggio è Petra? Petra è un personaggio nato dalla penna di una bravissima scrittrice che è Alicia Gimenez Bartlett, ne è stata fatta una serie ed è un'ispettrice molto sui generis perché è una donna che non scimmiotta lo stereotipo dell'ispettore raccontato sempre al maschile ma è molto poco legata agli stereotipi femminili. E dunque ha un carattere molto particolare, è quella della scrittrice e anche degli sceneggiatori della serie, è una scrittura molto ironica. Io sono particolarmente contenta di aver affrontato questo personaggio, questo premio lo ricevo per la seconda stagione e sono molto orgogliosa di essere qua. Tanti premi ricevuti, ancora un Pegaso d'oro. A chi dedica questo riconoscimento? Ma vorrei dedicarlo a tante persone e sono legata a questo premio anche attraverso una persona molto cara e un mentore che ho avuto all'inizio del mio percorso lavorativo che è stato Enrico Vaime e mi piacerebbe dedicarlo a lui. Grazie a tutti.